Bentornati! Il grande, grandissimo Edoardo De Filippo diceva una frase che introduce bene il video di oggi, ovvero sia Essere superstiziosi ed è ignoranti, ma non esserlo porta sfortuna. Questa frase spiega in maniera abbastanza realistica non solo il mio approccio nei confronti dell'argomento di cui parliamo oggi, ma anche di buona parte di quelli che lavorano in teatro. Tutti quelli che lavorano in teatro sono superstiziosi e lo sono anche se normalmente non lo sono nella vita. Cioè dire, io normalmente non sono superstizioso, non credo nella sfortuna, non credo nella iella e i gatti neri fondamentalmente li trovo anche abbastanza simpatici. Però, quando si tratta di cose teatrali, vivendo in teatro sul palcoscenico da quando ho 19 anni, beh, allora lì mi scatta dentro qualcosa. E questa superstizione, questa scaramanzia, chiamatela come volete, riguarda non solo l'opera di cui parliamo oggi, e come avete notato non ho ancora nominato e cercherò di guardarmi bene dal nominare, ma riguarda il teatro in generale, la lirica ma anche la prosa. Cioè, l'altra opera che si dice sia, ma è detta di Verdi, per esempio, è il Macbeth, ma che si porta dietro una presunta sfortuna derivata dal Macbeth di Shakespeare, da cui è tratto. Non per niente gli attori di prosa generalmente si riferiscono al Macbeth come il dramma scozzese, appunto per non nominarlo. E con l'opera di cui parliamo oggi succede un po' la stessa cosa, e infatti non si nomina mai il titolo di quest'opera, ma si dice la potenza del fatto, lo sforzo, la forza del cestino, la forza del camino, insomma. E di questa cosa ho parlato ovviamente anche nella trama raccontata male. Prima di andare nello specifico di quest'opera, come ho detto, tutti quelli che sono su un palcoscenico, anche nella prosa, hanno questa idiosincrasia verso alcuni titoli, ma anche alcune pratiche. Probabilmente lo sapete che in teatro è vietato il Corre Viola, probabilmente sapete che in teatro è vietato Fischiare, anche se una roba del genere, ecco, si viene messi a testa in giù per un certo numero di secondi. delle cose che mi rendo conto che sembrano un po' sciocchi, un po' puerili per certi versi, ma però vi assicuro che vedrete anche attori di chiara fama e anche di una certa età che rispettano scrupolosamente queste regole. Se il copione cade per terra, va ribattuto al contrario tre volte. Tutte queste regole che sembrano un po' campate per terra hanno tutto ovviamente un'origine storica. Parliamo per esempio del fatto di non usare il viola in teatro, perché il viola è il colore della quaresima e nel Medioevo, in tempo di quaresima, i teatri erano chiusi, quindi gli attori non lavoravano e quindi gli attori, come dire, non volevano vedere il colore viola. Però il viola ha questa funzione in Italia, in altri stati c'è il giallo, in altri stati ancora c'è il verde, in altri stati c'è il blu, che però è accettato e accettabile sia dentro dell'argento. Allora tutte queste forme un po' sciocche, mi rendo conto di scaramanzia, hanno tutta un'origine storica che magari in certi casi si perde una notte di tempi. Ovviamente il fatto di non fischiare in teatro è perché è una cosa legata al fischio del pubblico. Se io fischio in teatro, quindi durante le prove, come dire, in un certo senso sto portando i fischi al mio spettacolo e quindi questo non va bene, anche se abbiamo visto in altri video che fischiare teatro ormai può essere anche un segno di apprezzamento. Così come, credo che sia noto, il perché in teatro si dice merda, 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 si dice prima di andare sul palcoscenico, di andare in scena. Anche questa è un'origine storica perché fino all'Ottocento il pubblico, e soprattutto il pubblico benestante che quindi pagava le cifre più alte per assistere a rappresentazioni teatrali, veniva in teatro in carrozza, trani nata dai cavalli, e i cavalli, si sa, fanno la cacca. Per cui il concetto di merda, merda, vuol dire quanta più cacca c'è intorno al teatro, vuol dire che c'è più gente, soprattutto più gente che paga un biglietto alto, e quindi è questa cosa diventata di buon auspicio. E questa cosa non è solo in Italia, in Francia dicono merda, in spagnolo mucha mierda, in portogallo dicono muita meida. Insomma, come vedete, non è una cosa che riguardi solo l'Italia, e non è una cosa, come qualcuno può pensare, legata appunto magari al Meridione, magari appunto a De Filippo e alla smorfia napoletana, a un po' di scaramanzia partenopea e così via. Io appunto non sono scaramantico nella mia vita normale, però quando entro in teatro, la mia parte del sud, mi ricorda che non è vero, ma ci credo, oppure non è vero, non ci credo neanche, ma perché rischiare fondamentalmente? Insomma, poi invece tutto il resto della mia vita, la mia metà padana e irrazionale è assolutamente neanche sfiorata da questi pensieri e da queste credenze. Quindi tutto quello che abbiamo detto finora, come si relaziona con l'opera innominabile di Verdi e da cosa deriva questa fama di essere un'opera sfortunata e o che porti sfortuna. Allora, io mi sono studiato molto l'argomento nelle ultime settimane ed ho notato che su tante cose, e adesso vi farò una serie di esempi, secondo me, come dire, si guarda la cosa con un certo pregiudizio negativo. E ora tra qualche minuto vi spiego cosa voglio dire. Allora, noi abbiamo due dati storici, come dire, di sfortuna legati a quest'opera. Il primo è la genesi stessa dell'opera, perché l'opera è stata commissionata dal teatro di San Pietroburgo e quindi doveva debuttare a San Pietroburgo. La cantante, la protagonista dell'opera, si ammalò e siccome non c'era una sostituta, anche perché era un'opera ovviamente in prima esecuzione assoluta, l'opera dovette essere rimandata e Verdi si fece il viaggio fino a San Pietroburgo e dovete tornare indietro e la spostavano addirittura all'anno dopo. Quindi non fu rinviata di qualche settimana, ma addirittura di un anno. Va bene, e fin qui ci siamo. La cosa seccante, ma alla fine sono cose che possono succedere. Quando nel 1862 l'opera debuttò a San Pietroburgo, nell'opera c'era un testo in cui Don Alvaro cantava Fallì l'impresa e nessuno, né Verdi né Librettista Piave, si accorse che questa frase, Fallì l'impresa, poteva avere un doppio significato, perché al tempo la maggior parte dei teatri era gestiti dalle imprese teatrali, come questo veniva fin dalla notte dei tempi, ed era facile che un'impresa teatrale potesse fallire, proprio economicamente fallire, perché per una produzione è andata male, perché magari aveva messo un sacco di soldi in una nuova produzione e questa produzione non era pensata dal pubblico e quindi l'impresario andava in bancarotta. Per cui questa frase, Fallì l'impresa, fu ritenuta immediatamente come portatrice di malasorte. Tanto è vero che subito dopo fu modificata in Fuvana l'impresa, che già Fuvana l'impresa ovviamente non ha più il doppio significato, la doppia eccezione, e quindi fu ritenuta accettabile. Però ormai, come dire, c'era questa nomea che questa frase avrebbe portato sfortuna all'opera stessa. Questo Vokey è un dato storico, alla fine parliamo però di sensazioni, parliamo di sentore, parliamo di ma si riteneva che, si pensava che, portasse sfortuna, eccetera, eccetera. L'unico dato storico invece che abbiamo di un qualcosa di funesto che si è legato a quest'opera è successo il 4 marzo del 1960, niente po' di meno che al Metropolitano di New York, quando durante la rappresentazione di quest'opera il baritano Leon Warren che aveva appena finito di cantare e qui forse veramente il diavolo ci ha messo lo zampino morire tremenda cosa, fu colto da infarto e morì veramente. Quindi innestate questo episodio realmente funesto e realmente tremendo su un'opera che aveva già questa diceria con tutto che era passati cent'anni, attenzione, l'opera è debuttata nel 1862 e questo episodio è accaduto nel 1960, cent'anni dopo praticamente. Però, sopra ripeto, innestate questo episodio funesto su quest'opera su quest'opera e capirete e capirete che la cosa poi ingenererà tutta una serie di conseguenze soprattutto nella percezione che ha quest'opera. Perché voglio dire di gente che è morta in palcoscenico, abbiamo avuto Mitropoulos, abbiamo avuto Molière, lo stesso Sinopoli, insomma, non è che sono morti durante la rappresentazione di quest'opera, sono morti durante altre opere o altre pièce teatrali nel caso di Molière. Quindi quell'opera è porta sfortuna? Ovviamente no. Però la sfortuna presunta a quest'opera non è mai riuscita a togliersela di dosso. Tanto che io, ripeto, facendo delle ricerche per capire bene nel profondo, dal punto di vista storico, le ragioni della presunta sfortuna di quest'opera, mi sono imbattuto in una serie di articoli e di racconti che mi hanno lasciato quantomeno perplesso. Vi leggo questa piccola parte che ho estratto in un articolo che diceva quando il fato con la F maiuso quindi quest'opera si scatena si verificano sciopri degli aerei e degli orchestrali, crisi isteriche o di voce, padri guardiani a cui si stacca la barba, preziosille che inciampano i tamburi e alvari nel solfeggio ma questo prete non arrivale sempre, stecche memorabili sovrintendenti sfiduciati dal Consiglio di Amministrazione tra la Sinfonia e la Vergine degli Angeli e così via. Scioperi di aerei, di treni, di orchestrali non credo che siano successi solo durante l'esecuzione di quest'opera, problemi di voce sono successi a tutti, cantanti a cui si stacca la barba, i baffi o cade la parrucca, cioè sono normali, normali inconvenienti che possono accadere nel teatro e in particolare nel teatro d'opera in cui come ho detto tante volte sono talmente tante le variabili che devono collimare perfettamente che è facilissimo o possibilissimo che una di queste variabili non funzioni come deve e quindi poi trascini nel baratro magari una serie di altre varianti. le stecche mica mi vorrete dire che solo in quest'opera i cantanti hanno steccato, quest'opera che vi faccio notare e continuo a non nominare. Sovrintendenti sfiduciati va bene, sarà successo un caso di un sovrintendente che è stato sfiduciato nel corso di quest'opera. Quindi come ho detto questi episodi e altri che vedremo più avanti sono cose che succedono in teatro non mi sembrano francamente ascrivibili e imputabili esclusivamente a quest'opera. Però poi ripeto questa cosa è talmente rimasta nella nella nostra percezione e nel nostro DNA teatrale che addirittura ho letto un articolo che sfiora il ridicolo dove si parla della sfortuna avuta da Piave il librettista dell'opera. Allora innanzitutto dicono è l'ultimo libretto che scrisse per Verdi va bene ok diamo per assodato che è l'ultima opera con cui ha collaborato con Verdi doveva esserci comunque un'ultima opera no? cioè non è che qualunque altro titolo l'avesse fatto per ultimo e sarebbe stato l'ultimo no non mi sembra un evento così straordinario ecco altro episodio che viene raccontato in questo articolo dice nel 1866 il fratello di Piave fu incarcerato dagli austriaci quindi quattro anni dopo la prima va bene hanno arrestato fratelli Piave quindi non l'avrebbero arrestato se Piave non l'avesse scritto quest'opera non lo so mi sembra un po' eh la madre impazzì quindi sempre anni dopo e l'anno seguente quindi cinque anni dopo cinque anni dopo la prima esecuzione di quest'opera a Piave venne un ictus che lo paralizzò fino alla morte che venne nove anni dopo ha avuto ha avuto un ictus come può capitare a me fra cinque minuti cioè e poi è morto nove anni dopo per una cosa successa quindici anni prima cioè vedete che mi sembra che si voglia più che motivare una cosa reale accaduta a causa di quest'opera cosa che ovviamente è irrazionale quindi non è motivabile non è giustificabile mi sembra che si voglia dire questa cosa è successa più o meno nell'ambito di quest'opera e allora è l'opera che porta sfortuna un'altra cosa ridicola che ho trovato nelle motivazioni per cui quest'opera sarebbe sarebbe sfortunata e porterebbe a sfortuna si dice che nel 1939 quando ci fu lo scopo della seconda guerra mondiale c'era quest'opera in cartellone e allora e ci sarà stata anche Bohemia ci sarà stata anche Traviata ci sarà stata anche le nostre di Figaro cioè ma che cosa vuol dire cioè se adesso cade una bomba qui ed esplode ed esplode la casa e da qualche parte la staranno eseguendo quest'opera non è che possiamo dire ah esplosa la casa è venuta giù una bomba perché a Portland stanno eseguendo quest'opera cioè mi sembra veramente veramente assurdo a riprova di questo leggo un altro articolo che dice che l'orchestra del maggio musicale fiorentino era in in tournée in Giappone eseguendo quest'opera e ci fu un grosso terremoto il Giappone è zona sismica hanno un terremoto alla settimana cioè che cosa vuol dire capite veramente ripeto che è veramente la dimostrazione che ci si attacca a qualunque cosa pur di dimostrare che altra citazione che ho trovato su internet che mi sembra che abbia che sfiori veramente l'assurdo sempre nel 2011 a Nairobi l'orchestra che avrebbe dovuto eseguire quest'opera rischiò di perdere il volo rischiò neanche lo penso e anch'io rischiato di perdere mille voli che cosa vuol dire cioè sono cose che succedono non è che l'orchestra abbia potuto rischiare di perdere il volo se avessero dovuto fare un ballo in maschera che cosa significa in più una cosa che veramente di cui non ho trovato nessuna fonte sempre citata in questo articolato dicevo qualche giorno prima durante le prove due persone morirono affogate questa cosa generica di cui non si sa chi qualche persona erano musicisti gente che passava come sono affogate durante le prove come ho fatto affogare durante le prove allora cosa vuol dire che se uno sta andando in macchina e fa un incidente mortale diremo che è perché stava andando le prove di quest'opera in sostanza io cerco di mantenere un rapporto equidistante gioco anch'io al gioco di non nominare quest'opera come avete visto non l'ho fatto però al contempo mi presento a voi con una camicia viola quindi il colore abborrito abborrito in teatro per cui insomma va bene direi prendiamola a ridere ma insomma non attacchiamoci veramente a queste a queste sciocchezze perché credetemi se quest'opera che tra l'altro è veramente bella portasse veramente sfortuna vi assicuro che non la rappresenterebbero più bene se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un like se il video vi è piaciuto ma soprattutto come sempre voglio sapere la vostra opinione per cui scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate se avete anche voi degli episodi da raccontare attenzione alle notizie di quarta quinta sesta ottava mano possibilmente raccontatemi qualcosa a cui voi abbiate abbiate assistito dopodiché se dopo aver fatto questo video non mi succederà niente di male ci vediamo al prossimo non mancate